Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, in questo video faremo l'unboxing di un NAS prodotto da TerraMaster. Parlo del F2 NAS2, un prodotto rivolto alle utenze domestiche e alle piccole imprese, dotato di dual bay, mosso da un processore Marvel a 1.6 GHz, 512 MB di RAM e un prezzo che si aggira intorno ai 100-120 euro online. Prima di vedere cosa c'è all'interno della confezione descriviamo la stessa, come potete vedere è una confezione completamente blu, sulla parte frontale troviamo il disegno del NAS e quindi del prodotto che c'è all'interno della confezione, il modello si capisce chiaramente perché è scritto a caratteri cubitali, F2 e sul resto della scatola troviamo il logo dell'azienda e in cima una comoda maniglia in plastica per trasportarlo. Vi rimando alla seconda parte di questo video, faremo altri video sempre su questo prodotto dove ci sarà la descrizione dello stesso, la prima configurazione e poi un dettaglio sul sistema operativo di questo prodotto perché merite di essere visto. All'interno della confezione troviamo il nostro Terra Master F2 NAS 2 e una scatola di cartone un po' più piccola contenente cavi e quant'altro, adesso lo andremo ad aprire. Mettiamo un attimo da parte dunque il nostro Terra Master e apriamo la nostra confezione. Come potete vedere all'interno troviamo un cavo di rete RJ45 blu, tutte le buste come vedete sono chiuse, sigilate da questo nastro con la scritta Terra Master, sono molto molto carini. troviamo le viti per il serraggio dei dischi e questa spilletta, questo pin che serve per schiacciare il bottone di reset che si trova sul retro del nostro NAS. Andando avanti troviamo un cavo di alimentazione con presa inglese, trasformatore di corrente e cavo sciuco, sempre dentro i nostri bei sacchetti terramaster. Abbiamo un manuale quick starter, multilingua tra l'altro, dove possiamo notare che per effettuare la prima configurazione del prodotto bisogna recarsi su start.terramaster.com è una procedura molto simile a quella vista anche da altri produttori. Andiamo avanti, l'ultima cosa che troviamo all'interno della nostra confezione è questo Deplian di Terra Master dove possiamo notare altri prodotti in commercio, appunto prodotti dall'azienda e troviamo varie specifiche eccole qui, qui abbiamo l'elenco di tutte le specifiche dei prodotti che l'azienda ha in commercio. Un bundle che, ah ecco, ci siamo dimenticati, questi non li avevo ancora visti, abbiamo degli adesivi da applicare sui nostri bei o sui nostri dischi per ricordarci qual è il disco 1 e il disco 2. Stavo dicendo che il bundle è più ricco rispetto a quello visto da altre aziende, in questo caso abbiamo anche il Deplian con tutti gli altri prodotti in commercio. Diamo uno sguardo veloce al prodotto, troviamo in primis, è completamente in alluminio e questo non può far altro che farci piacere perché la qualità è decisamente elevata. Ha questa grande maniglia sulla parte alta che è comodissima per trasportare il prodotto che ha delle linee piuttosto futuristiche, il colore è tutto argentato, molto molto bello. Abbiamo i due bei frontali che si aprono a clip, anche questi in metallo favoriscono il raffreddamento dei dischi. Notiamo la scritta HDD1 e HDD2 per il secondo disco. Eccolo qui. Sulla parte superiore abbiamo questa scritta che sono i vari step che dobbiamo seguire, per configurare il nostro sistema, step che vedremo in un altro video che troverete nel link qua sotto nella descrizione di questo video. Sui laterali troviamo il logo dell'azienda TerraMaster come potete vedere, sempre sul frontale abbiamo il tasto di accensione e questi due led per l'attività dei dischi e la scritta con il modello del prodotto. Sul retro abbiamo la ventola in estrazione, spero che si veda bene, la ventola in estrazione, il plug per la corrente elettrica, l'ingresso LAN RG45 da gigabit, una porta ESATA e una porta USB 2. Troviamo qua nell'angolino anche il pin del reset da utilizzare appunto con quell'accessorio che abbiamo visto prima. Abbiamo le quattro viti sul retro per smontare il prodotto. Il prodotto non è leggerissimo ma sicuramente esteticamente molto molto carino. Detto questo vi lascio ad un altro video dove vedremo come configurare questo prodotto e un altro video ancora dove ci sarà una panoramica del sistema operativo che muove questo TerraMaster. Detto questo per ora è tutto, da Angela e dalla redazione di Xtreme Hardware un saluto. Ciao ciao!